Ciao a tutti da Trattoria Sportiva, la partita sta, come potete immaginare, volgendo al termine risultato al momento di 2-0 per il Monzo Chiamento è una partita annunciata che sarebbe stata difficile anche per il numero delle assenze si sapeva, però un minimo in più di prestazione, di carattere, me lo sarei aspettato me lo sarei aspettato ma è mancato, è mancato lucidità anche da parte del mister perché mettere Scitum terzino non lo so, io sinceramente non ce l'avrei mai messo infatti il primo rigore l'ha causato Mario con un errore suo, ma lui è fuori ruolo quindi che caspita voleva fare? Fuori ruolo, rigore e diciamo che il primo tempo ci è andato anche abbastanza bene visto che il 2-0 è stato annullato per il 2-0 di Danny Mota mi sa è un fuorigioco di Gitkier tipo stile Bonucci vado a memoria, Juventus-Roma, cioè il giocatore in mezzo lui è proprio davanti al portiere, quindi è annullato per questo motivo secondo tempo sembrava che la situazione un minimo, almeno caratterialmente fosse come dire migliorata, i giocatori fossero entrati in campo con un'altra verba un altro piglio errore di sì, prova a rimediare rigore, 2-0 io continuo a sostenere che i mezzi per salvarsi questa squadra li abbia guardando il Vicenza di oggi, guardando il Crotone ricordandoci che abbiamo una partita in meno che recuperiamo il 14 e il problema è che alcune volte alcuni giocatori si dimenticano di averla questa qualità anche l'allenatore, perché cioè, ok, oggi è ritempestato dalle assenze, si è fatto male anche Palmiero che non è che quest'anno stia facendo benissimo vedere la fascia di Capitano sul braccio di Florenzi inizialmente mi è un pochettino scosso però poi ho detto, meno peggio là in mezzo, anche oggi quindi, va bene così, cioè, guardando le statistiche scusate, metto gli occhiali 8 tiri, 3 importa noi, 9 tiri, 3 importa loro cioè, guardando le statistiche tu dici è una partita che senza quegli errori magari te la potevi portare a casa un pareggio il problema è se tu vai a vedere, se realizzi anche, come dire, il possesso palla tra primo e secondo tempo primo tempo 17%, secondo tempo 23% vuol dire che tu il pallino del gioco non lo hai ammuto mai e quelle rare occasioni che hai creato lanci dalla difesa e non hai mai imbastito occasioni palla a terra, palla a terra e così non ti salvi, lo sai pienissimo ora sei a meno 4 dal Monza magari, magari dal Monza sei a meno 4 dall'Alessandria ma lo ripetiamo, giochi giovedì il calendario che hai ora in queste ultime partite a parte il Pordenone alla terza ultima non è Rosio perché hai Benevento 14 il 18 a Pasquetta vai a Cremona poi mi sa che c'hai e che partite sono quasi finite Pordenone a Pisa e a Cittadella in casa ecco Cittadella in casa se me ne sono dimenticata qualcuna ma non credo perché tanto mancheranno siamo alla 34esima 33esima 34esima quindi fondamentalmente mancheranno queste giornate queste partite e queste giornate appunto e scrivetemelo nei commenti io sinceramente analizzare questa prestazione questa partita non mi va perché dovrei arrabbiarmi e sinceramente non c'ho voglia ve lo dico sempre sinceramente non c'ho voglia non c'ho voglia di sbattere i pugni oggi non c'ho voglia di alzare la voglia oggi non c'ho proprio voglia perché io continuo a sostenere che Bisoli questa partita l'abbia preparata è giusto per sperando nella fortuna della sorte e sperando e puntando tutto sulla partita col Benevento però figlio mio guardami negli occhi figlio mio bisogna fare punti cioè non sei in una situazione erosia non sei tipo una regina che è a 44 punti e ti puoi permettere di non giocare o di non fare punti tu non te lo puoi proprio permettere una cosa del genere e la striscia negativa si riapre perché un pareggio dopo il roboante pareggio con la Spal perdi in casa con le assenze di Camporese e Regione e di Larrivei che si sono fatti sentire ritornerà il Bati con il Benevento quindi almeno davanti hai un'altra scelta un'altra opzione sperando di recuperare Millico per questa fase finale del campionato ma non ci spero ci spererò soltanto quando lo rivedrò in campo per il resto ho prestazione negativa di tutti cioè l'unico veramente che si impegna è caso cioè è caso veramente prende palla e non dico tira da qualsiasi posizione ma lo vedi che si impegna si arrabbia coi compagni gli altri alcuni praticamente li vedo giocare scazzati cioè Scitum vabbè oggi era fuori ruolo ma Carraro comunque tra lui e Palmiero io non so che sia peggio quest'anno cioè tra Carraro e Palmiero perdono quest'anno male male ma credo che l'emblema di questa società e di questo mercato fatto tra gennaio e agosto quello passato sia Emanuele Doi cioè Emanuele Doi è arrivato in gennaio l'ultimo giorno di mercato come colui a parte gli ottichi mamma mia mamma mia a parte gli otti a parte gli otti Doi è arrivato come quello che doveva alzare il tasso tecnico della squadra se per voi l'ho alzato a me è alzato altro è soltanto l'incazzatura non pensate male non pensate male a me è alzato soltanto l'incazzatura mi doi io boh cioè nel senso non saprei veramente come cosa potrei aggiungere per una prestazione del genere in Monza ha fatto il compitino si porta a casa a tre punti considerando anche che la cremonese ha perso probabilmente ora non vado a memoria sarà nei primi due posti e noi gli arranchiamo noi siamo a meno 4 con una partita di meno dall'Alessandria a pari punti con il Vicenza che oggi ringraziando San Francesco di Paola oggi è perso di nuovo e che vi devo dire ragazzi cioè si deve analizzare una partita del genere dove non hai creato hai avuto poche volte il possesso del gioco il pallino del gioco praticamente non lo hai avuto mai il possesso palla come ho detto prima 17% del primo tempo 29 il secondo concedi due rigori e quindi due episodi li concedi te con due cappelle cioè ma di che dobbiamo parlare di che cosa dobbiamo parlare cioè è una squadra è una squadra che quando bisognava eloggiarla e siamo stati l'abbiamo eloggiata quando bisognava criticarla l'abbiamo criticata oggi che cacchio devo dire oggi che cosa devo dire cioè l'ha preparata male giocatori che ripeto a parte caso e Florenzi che vederlo con la fascia sul braccio come ho detto prima inizialmente sono stato un pochettino titubante poi ho detto io vabbè va bene cioè io non lo so io non io non questo video finirà con io non fatemi sapere ciò che ne pensate nei commenti datemi il supporto se non l'aveste fatto ancora iscrivetevi lasciate un like un commento passate nel link in descrizione per sostenere il canale è nulla ci sentiamo il 14